salve sono urbano della sani moreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella Audi A3 2000 turbodiesel 170 cavalli allora qualche immagine della carruzzeria esterna che è di questo bel nero metallizzato molto molto bella sempre presentabilissimo a livello di accessori il più evidente cerchi lega da 17 pollici versione S line esterna versione S line interna quindi una macchina veramente messa bene interni misto pelle tessuto sono stati lavati igienizzata al vapore quindi anche internamente si presenta molto molto bene ha il suo autoradio col cd climatizzatore automatico cambio 6 marce 179 mila chilometri tagliandi tutti fatti cosa dire di più è già disponibile per la vendita potete già venire a vederla ah dimenticavo è dell'anno 2009 potete già venire a vederla approvarla potete chiedere informazioni anche telefonando si prende un appuntamento potete andare sul nostro sito diretto autosani.it troverete tutte le spiegazioni più specifiche su questa vettura e tutte le nostre altre occasioni in vendita sia macchine usate che macchine aziendali a questo punto vi saluto grazie per l'attenzione per qualsiasi informazione ripeto venite o telefonate e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.